La protesta si tiene nonostante lo stop della Commissione di Garanzia per gli Scioperi. Si parla della protesta degli autotrasportatori per lunedì 14. Le organizzazioni dicono si tratta di una scelta individuale. La Commissione di Garanzia per gli Sciopoli due giorni fa aveva bloccato lo sciopero dell'autotrasporto, blocamato per oggi per il mancato rispetto dell'anticipo di 25 giorni dalla proclamazione per la mancanza di indicazioni di una durata. Ma Trasporto Unito risponde che quella di oggi è una protesta spontanea.